ecco impara con la sua che almeno è molto meglio è più difficile ma impari di più ma impari di più con questa sembra ma è più difficile dei quattro tempi vedi che gli aveva messo il trucco è perché così impara perché sennò la fa subito facile solo che è passato da parte mamma mia che rischi che fa madonna cioè ma tu sai tu sai che se sei passato sul bordino che se ti va giù vai giù fino in fondo tu lo sai eh tu lo sai chi vado a prendere tu guarda dove sei passato se metti il piede di là ma come cadevi gli davi e basta ma che va dal tronco va giù ma tu vai giù di là figaro perché per me è difficile anche questa questa è difficile non è una roba così eh cioè a parte questo ma non è una roba facile però questa è arrivare molto ma molto veloce cioè impara piuttosto a fare quella lì ma che vado e ti fermi senza senza fare niente c'è l'acqua sì che fa schifo poi arrivi lì e poi li fai subito ma il problema è fare il gradino non vieni su qua boh impara impara a fare il gradino piano piano in sicurezza tranquillo meglio qua che lì grazie grazie grazie